Ciao ragazzi, mi sto allenando qui al David Lloyd e in questo video parleremo del Gorilla Gold. Che cos'è il Gorilla Gold? È un panno che è intrinseco bagnato da una sostanza tipo vischiosa che permette di avere un grip maggiore sul manico della racchetta. Nato negli Stati Uniti d'America, viene utilizzato soprattutto in NFL e NHL, quindi baseball e football, per dare appunto la presa maggiore nella palla quando arriva dal lanciatore oppure sulla mazza da baseball. Stesso discorso vale per le nostre racchette, quindi soprattutto per chi ha magari una mano che tende a sudare molto, oltre all'overgrip può utilizzare questo tipo di prodotto. Ora in questo video vi mostrerò l'utilizzo, visto che qualche giorno fa vi ho fatto vedere le foto e ne ho parlato in forma scritta e quindi per dare un servizio sempre migliore. Il momento è molto semplice. La confezione, in questa linguetta praticamente salva prodotto. Il prodotto, ecco qua, faccio tutto con una mano sola, quindi capita anche un pochino di difficoltà. Ecco qua, quindi il panno lo tiriamo fuori, ci appoggiamo sopra la mano, sentiremo quindi questa sostanza appiccicosa sulla mano e andremo poi a toccare il manico della nostra racchetta. In questo caso sentirete la sostanza sulla mano e sul manico e vedete appunto i risultati che la casa produttrice promette, quindi maggiore tenuta della mano sulla racchetta e un controllo, diciamo, soprattutto per chi, come ho già detto anche nella parte del video, soffre di una forte sudorazione. Cosa importante, il prodotto va rimesso in sacchetto e risigillato in forma corretta. Ora rigitiamo la telecamera per l'ultima parte, anzi faccio vedere anche il campo di allenamento, sopra. Eccoci qua, ultima cosa parlando ora della durata del prodotto, mediamente un panno, come data confezione normale, ha una durata per un giocatore che gioca 3-4 ore a settimana di all'incirca di 3 mesi. Durante l'utilizzo la mano va appoggiata sul panno, durante un'ora mediamente un paio di volte, quindi ora questo mese utilizzerò il panno e vedremo i reali risultati. Buon tennis, buon divertimento a tutti! Grazie a tutti!